Io ero abituato a allenarmi sempre con la palla e qui è un po' diverso perché abbiamo lasciato la palla un po' fuori e è un lavoro molto fisico. La sveglia alle 8 è un po' difficile ma dopo l'allenamento è normale come in Spagna. In Spagna a che ora vi svegliavate? Un'ora più tardi alle 9. La prima partita è un po' più facile ma adesso stiamo alzando il livello dell'altra squadra e questa è una prova per noi per andare in campionato. L'importante è giocare, se è più difensivo o più attaccante è diverso. Io preferisco un po' attaccante ma il mister decide. Sì, sono molto buono a tutto, è un giocatore giovane, mi sta insegnando come va tutto e anche gli altri giocatori sono molto amabili e simpatici con me e mi stanno aiutando all'adaptazione molto veloce. Io imparo un po' il suo spagnolo, lei mi insegna un po' il francese ma sempre parliamo italiano. Quindi fate anche il cambio di... Ma lui ha studiato spagnolo all'école e io francese all'escola per questo possiamo parlare un po'. Manti è molto bravo, un bravissimo giocatore e l'altro giorno ha fatto di capitano. Credo che posso fare questo ruolo nella squadra perché è un leader e aspettiamo che questo anno lui mi porta al buon cammino. Per me anche Perez è un bravissimo ragazzo ma è probabilmente il che mi ha aiutato più in questi giorni perché è veterano, sai come va tutto. Ma, ripeto, il mister deciderà che qua è il capitano e avanti con tutto. Se è possibile io voglio lavorare dopo il futbol, ripeto, e dopo il calcio. È una cosa di economia ma è relazionata sempre con il calcio. Adesso comincio il terzo. Mi ha fatto due assinatura. Ma quanti anni hai già dato? 18 o 19. Ah, sei bravissimo. No, 10 assinatura per anno. Per me l'allenamento è incredibile. Xavi, Iniesta e anche Busquets perché in possesso di palla molto piccolo non ho perso. Perdono mai la palla. Ma Messi nella partita è... E anche in campo. Anche in campo. No, ma con un spazio piccolo anche. Messi nella partita è incredibile. Fa la cosa che vuole. È incredibile questo giocatore. Il meglio del mondo.